È ampiamente dimostrato come la qualità del benessere fisico sia strettamente legata alla qualità del riposo e chiaramente la qualità del riposo dipende tantissimo dal supporto dove ci riposiamo. Ora l'argomento merita molta attenzione perché dormire su un materasso non corretto può portare a delle problematiche fisiche anche importanti. Per approfondire l'argomento oggi stavamo venuti a Parma per incontrare Anselmo Benassi titolare del materasso che è stato un centro di eccellenza in questo settore. Parlavamo intanto di problematiche fisiche quali sono gli allarmi che possono dirci che forse stiamo dormendo su un materasso non corretto? Direi che innanzitutto quando mi sveglio la mattina che accuso mal di schiena questo è il primo sintomo dopodiché quando mi giro ripetutamente sul materasso e comunque quando mi sveglio non riposato. Questi sono i sintomi che mi fanno pensare che il materasso non vada bene. Ora quindi devo scegliere il materasso nuovo qual è il materasso migliore? Come si fa a sceglierlo? Anzitutto è corretto parlare di sistema letto quindi materasso rete e guanciale che devono lavorare in sinergia tra di loro. Per esempio il guanciale deve essere di un'altezza specifica particolare che va dalla parte esterna dell'orecchio fino al parte superiore dell'omero. Il materasso deve essere ergonomico quindi che rispetta la nostra colonna vertebrale sostenendo nelle zone più importanti dorsale cervicale lombale questo per evitare i punti di pressione quindi annullarli completamente in modo che noi ci svegliamo la mattina riposati questa è la cosa importante. Ecco quindi abbiamo capito che l'importante sistema letto e non semplicemente il materasso questo è già un concetto importantissimo che spesso viene magari sottovalutato. Arrivando invece al materasso oggi ce ne sono di tante soluzioni ci può spiegare se le può elencare? Sì ce ne sono di tante soluzioni però io partirei da tre grossi gruppi che sono lattice, memory foam e molle. Poi è anche importante fare una distinzione tra la densità e la portanza. La densità è la quantità di materiale che c'è in un metro cubo espressa in chilogrammi quindi maggiore è la densità maggiore la durata del materasso è maggiore il comfort da non confondere con la portanza che è la resistenza alla compressione che si misura in chilopascal quindi maggiore è la portanza più rigido è il materasso. Quindi ci sono aspetti tecnici importanti che poi approfondiremo ecco diciamo tra queste tipologie qual è secondo la sua esperienza il migliore? Non c'è un materasso che va bene per tutti perché ognuno di noi è diverso dall'altro quindi suggerisco di passare di andare in un centro specializzato e provarli. Io personalmente non suggerisco di comprarli online oppure farsi riconsigliare da un amico o da un conoscente è meglio passare da un centro specializzato e provare. Questo è un concetto importante quello che ci ha detto nel senso che magari qualcuno ha un parente un amico che ha un materasso che si è trovato benissimo dice lo voglio comprare anch'io non è detto che quel materasso che va bene benissimo l'amico vada bene per noi. Esatto proprio perché l'uno di noi è diverso dall'altro quindi è giusto che uno lo possa provare direttamente nel punto vendita specializzato. Calmente diverso che mi diceva durante ci preparavamo la chiacchierata che in alcuni casi il materasso deve avere anche due, tener conto di due esigenze diverse magari all'interno della coppia. Sì esattamente perché spesso mentire ci torniamo di fronte a due pesi diversi quindi è giusto che nello stesso materasso matrimoniale possano avere due portanze diverse e due densità diverse. Due pesi diversi e anche due esigenze diverse magari due esigenze diverse. Quindi fondamentale è la scelta della persona a cui rivolgersi per la scelta del materasso per la consulenza. Assolutamente sì consiglio infatti di andare in un centro specializzato dove troverete personale qualificato preparato che sa ascoltare e che vi sa guidare su una scelta adatta e che risolve le proprie esigenze. Ecco questo è un suggerimento che mi permetti di sottolineare perché quindi diciamo un modo per riconoscere se ci stiamo rivolgendo al centro giusto è quando la persona non inizia illustrandoci il materasso ma inizia dall'ascolto. Esattamente. Ci spiega meglio questo concetto che è importante? La prima cosa che un consulente dovrebbe fare è ascoltare il cliente perché può avere anche diverse patologie. Una volta individuato le caratteristiche può suggerire qualche soluzione. Una personalizzazione che nel caso del vostro centro arriva addirittura al materasso artigianale quindi fatto proprio su misura per le singole persone. Esatto nel corso degli anni ci siamo reso conto che dovevamo personalizzare il materasso per ogni singola persona cliente quindi ci siamo rivolte da artigiani ai quali noi commissioniamo una lastra particolare o una cover particolare o una molla particolare di modo che andiamo a soddisfare ogni qualsiasi esigenza del cliente che si rivolge a noi. Quindi molla cover o tutte queste lastre che diceva che sono studiate proprio perché per rispondere alle specifiche necessità o configurazioni della persona. Assolutamente sì nel nostro punto vendita troverete il materasso più adatto alle vostre esigenze. E questo è importante. Benanzi la ringraziamo per questa chiacchierata perché ci ha dato delle indicazioni semplici ma importanti e ha fatto capire due cose che citerei anche a sottolineare è che intanto un materasso buono non può costare qualche centinaia di euro come si vede nelle promozioni però ci ha fatto capire anche il lato opposto che non è detto che un materasso che costa molto sia necessariamente il materasso giusto per noi. Assolutamente sì, ottimo, ha centrato il discorso. Quindi consiglio di rivolgere ad avere un centro che ti possa fare una consulenza e capire qual è il materasso migliore per riposare bene e quindi stare bene fisicamente. Grazie Benanzi per il tempo che ci ha dedicato e gli auguro buon lavoro. Grazie a voi.